Purtroppo chi ha il viso della chiacchiera è peggio di chi ha il viso di dire le bugie e di chi è infame perché infame non è un viso infame, ci si nasce ed è difficile, ve lo possono dire certi personaggi Comunque fratelli, vedrai che assolutamente 1727 tornerà con delle dirette esorbitanti perché qua l'attrezzatura è migliorata perché ricorda le cose si fanno in silenzio perché poi quando si colpisce o si è pronti a colpire l'effetto come si dice la vendetta va servita fredda, è un piatto che va servito molto freddo e lo sai 1727 è ghiacciato e tu vedrai che chi parlava male sarà il primo a tornare perché ricorda un cane torna sempre dal padrone Adesso ti saluto e ci sentiamo dopo, ciao Mama, è io che ti pensavo molto, ti pensavo molto, eppure sei io fratelli Ah beh per poco dai